Una decina di giorni fa lo stabilimento Miroglio di Ginosa fu oggetto di un furto di cavi elettrici, circa mezzo chilometro di cavi in rame che i ladri di oro rosso riuscirono a sfilare dalla centrale elettrica dell'ex opificio che produceva tessuti. Ad informare le forze dell'ordine fu la ditta incaricata dalla proprietà per la manutenzione della struttura, ma nella serata di ieri ancora un tentativo di furto da parte di ignoti, sventato questa volta da una pattuglia dei carabinieri di marina di Ginosa che si trovava in zona. Ad insospettire i militari l'insistente abbaiare di un cane nei pressi dello stabilimento sito incontrada a Girifalco. I successivi controlli hanno messo in fuga i ladri che sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Questa mattina sul posto si sono nuovamente recati i carabinieri della stazione di marina di Ginosa insieme ad un tecnico della ditta manutentrice al fine di accertare e quantificare ulteriori danni. Una notizia che preoccupa non poco gli ex operai della Viroglio che chiedono uno sforzo maggiore delle parti al fine di preservare la struttura nell'ottica di una possibile reindustrializzazione del sito produttivo che necessariamente dovrà mantenere integre le sue funzionalità. Per quanto concerne la situazione occupazionale i lavoratori lamentano l'incomprensibile mancata convocazione da parte del Ministero anche per comprendere lo stato delle trattative annunciate prima di Natale. Si allungano anche i tempi per l'accessione degli stabilimenti di Ginosa e Castellaneta dal gruppo di Alba ai rispettivi comuni per effetto di lungaggini burocratiche legate all'espletamento delle formalità di cessione. Intanto il primo anno di mobilità è quasi andato via.